Fondazione Pescara Abruzzo ha presentato questa mattina in conferenza stampa il calendario dedicato alla Settimana della Solidarietà, un'iniziativa che evidenzia l'impegno della Fondazione nella promozione dell'ambito sociale attraverso il coinvolgimento di volontari e categorie fragili o svantaggiate e le associazioni che operano sul territorio e che per l'occasione sono state remunerate con un contributo di 5.000 euro da destinare alle attività sociali. La Settimana della Solidarietà si è aperta con il concerto della Fila Armonica di Moscufo al Teatro Circus di Pescara. Obiettivo dell'evento è conciliare il sociale con la cultura a favore della solidarietà. Ci approssimiamo a vivere delle giornate di gioia come cittadini comuni e come è giusto che sia a margine delle festività natalizie, ma soprattutto in questi momenti in cui abbiamo motivo anche di gioire non possiamo dimenticare la sofferenza. E purtroppo di sofferenza sociale nella nostra comunità ce n'è tanta. Con l'iniziativa La Settimana della Solidarietà vogliamo provare a lenire appena appena queste sofferenze, che è un progetto che portiamo avanti con risorse compatibili con le nostre disponibilità, ma soprattutto con tanti sentimenti, con tanto affetto, con tanto cuore. Noi abbiamo pensato che non potevamo essere noi direttamente a gestire i contatti o a essere presente nelle varie trincee della sofferenza, che purtroppo caratterizza anche la nostra comunità, ma che ci dovessimo avvalere di chi davvero fa queste cose con generosità, con impegno, con spirito di volontariato durante tutto l'anno e che quindi avessero anche competenze e relazioni per risultare efficaci e tempestivi. E dunque abbiamo un parterre di associazioni che abbiamo invitato ad essere protagonisti loro e noi ci limitiamo a dare sostegno, supporto, incoraggiamento, un po' con risorse finanziarie, un po' con la nostra reputazione, il nostro sostegno morale.